Se il reddito di cittadinanza non decolla nel Comasco, la pensione di cittadinanza fa ancora più fatica e coinvolge pochi anziani. I numeri dell'Inps sono chiari, da aprile a giugno sono state accolte sull'ario 494 domande, su una platea di potenziali aventi diritto superiore a 140.000 unità. Un numero esiguo che, a detta dei sindacati, testimonia il fallimento della misura voluta dal governo giallo-verde e, in particolare, dal Movimento 5 Stelle. La Will Pensionati di Como ha diffuso un comunicato con le cifre aggiornate alla fine di giugno. Analizzando i dati dell'Inps relativi alle pensioni di cittadinanza accolte d'aprile a giugno 2019 e confrontandoli con la situazione dei pensionati sul territorio della provincia di Como suddivisi per fasce di reddito, si legge nel documento, si rileva l'inadeguatezza dello strumento, che non è in grado di dare risposta a una situazione di difficoltà economica vissuta da molti pensionati. Se si prendessero come riferimento i quasi 37.000 pensionati comaschi con più di 65 anni e un assegno mensile inferiore a 500 euro, le 494 integrazioni di reddito riguarderebbero soltanto l'1,34%. Un rapporto che scenderebbe allo 0,46% se invece si considerassero i quasi 107.000 pensionati comaschi con più di 65 anni e un assegno mensile inferiore ai 1.000 euro. Appare evidente come sia enorme la platea che non rientra tra i requisiti per la pensione di cittadinanza, scrivono ancora gli analisti della UIL. Una platea che pure vive con un sussidio economico che non permette di affrontare con la dovuta tranquillità una fase della vita in cui, tra le altre cose, sono necessarie inevitabilmente maggiori spese, ad esempio quelle sociosanitarie.